L'amministrazione, non certamente perché ne ha fatto una scelta, ma per motivi estemporanei non è riuscita ad assegnare quest'anno il bando delle spiagge libere, delle cosiddette spiagge libere o spiagge attrezzate che siano. Questo sicuramente crea un danno, un danno di immagine, di funzionamento, ma anche di sicurezza. Le spiagge non assegnate purtroppo non hanno il marinaio di salvataggio, non hanno la pulizia. Il degrado, così uso questo termine, che ne scaturisce è sicuramente un degrado che va a colpire anche poi l'immagine generale degli stabilimenti. Cercano e cerchiamo in tutti i modi di essere all'altezza di una offerta molto qualificata. Tra l'altro noi abbiamo anche cercato di sostenere l'amministrazione in tutto quello che potesse servirgli per attrezzare le spiagge libere, perché crediamo che sono fonte di sicurezza, sono fonte di accesso libero, sono fonte di quel servizio che deve essere dato alla cittadinanza, al turista in generale. Quindi se ci avessimo un buon prodotto spiagge libere sicuramente ne godrebbe di più la città, ma ne avremo tutti dei piccoli vantaggi.